Nelle Marche calano i contagi, ma si contano 3.000 morti da inizio pandemia. Conservatorio sabato, l'Open Day, concerto in diretta su Rossini TV. Tornano gli eventi sportivi a Pesaro, si riparte col triathlon. Repegia saluta la VL, allenerà la fortitudo Bologna. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è venerdì 21 maggio, in apertura dedichiamo questo notiziario agli aggiornamenti sulla pandemia nella nostra regione. Con i decessi di un 84enne di Chiaravalle e un 82enne di Corridonia, le Marche raggiungono infatti la cifra di 3.000 morti da inizio pandemia. Un fardello di lutti significativo, ma che va precisato negli ultimi giorni, è cresciuto in maniera estremamente lenta rispetto a mesi fa. Numeri in rallentamento, come quello dell'RT di contagio, che è sceso a 0,81 e mette le Marche con le carte in regola per tentare di diventare zona bianca a metà giugno. Per quanto riguarda i dati sui contagi di oggi, sono 176 casi nelle ultime 24 ore registrati su 1.627 nuove diagnosi, per un totale di 3.168 tamponi. Quasi metà dei contagi, cioè 86, si sono registrati a Pesaro Urbino, che resta la provincia maggiormente sotto osservazione. Confermata la discesa dei ricoveri, ora giunti a 234 nelle Marche, due in meno di ieri, di cui 40 in terapia intensiva. Calano ricoveri e contagi perché aumenta la disponibilità dei vaccini. Altri 22.000 ne sono arrivati oggi nelle Marche, ma non mancano incidenti di percorso, disguidi e malumori. Come all'ex Risto di Pesaro, dove questa mattina tutte le persone chiamate a vaccinarsi con AstraZeneca nelle prime ore del mattino, sono state riconvocate dopo le 10 per un ritardo nei rifornimenti specifici del siero anglo-svedese. Ed ora cambiamo completamente argomento. Come vedete ci stiamo occupando costantemente della ripartenza anche della macchina culturale del nostro territorio. Si inserisce in questo contesto l'Open Day del Conservatorio Rossini, che nella giornata di domani vedrà gli allievi dell'istituto portare la musica dal vivo in alcuni scorci del centro storico, per poi esibirsi alle 19.30 in un concerto che sarà trasmesso proprio da noi di Rossini TV. Open Day che ci viene illustrato dalla docente del Conservatorio, Maria Teresa Storino. Il 22 maggio è dedicato all'Open Day, Open Day che tradizionalmente si tiene all'interno dell'istituto, ma a causa appunto del Covid è stato necessario riformulare l'Open Day. Quindi sabato 22 maggio ci sarà la possibilità di sentire la musica dal vivo in quattro luoghi della città, punti quali Pescheria, il centro di arti visive, la Chiesa dell'Annunziata, il cortile di Palazzo Mazzola Rimosca. E contemporaneamente ci sarà anche la possibilità di assistere a dei concerti in streaming registrati degli studenti del Conservatorio grazie ad un maxischermo che è stato posizionato in Piazza del Popolo. Quindi si offre questa doppia possibilità, musica dal vivo e musica registrata. Ovviamente la musica registrata dà la possibilità di vedere l'interno del Conservatorio. Generalmente sono appunto i futuri studenti, gli interessati che entrano nell'istituto, però in questo caso non era assolutamente possibile. E poi ci sarà un grande concerto finale in streaming in diretta, in questo caso alle 19.30, che sarà possibile vedere sia sui canali social del Conservatorio, sia su Rossini TV. E sarà anche il momento in cui due allievi del corso di direzione d'orchestra porteranno a termine il loro percorso formativo, alla conclusione proprio con il conseguimento del titolo del diploma accademico di secondo livello. E in questa occasione la Form, l'Orchestra regionale delle Marche, sarà diretta appunto da due allievi. In programma, oltre a Wagner, è importante segnalare una prima esecuzione assoluta di un allievo recentemente diplomato, Shiva Mukherjee, di una sua opera, Jeanne. Ci sarà la possibilità di ascoltare proprio alcuni estratti da quest'opera. Quindi un'occasione anche importante, poiché si vedranno nel corso della giornata gli studenti appartenenti poi ai diversi corsi del Conservatorio. Inoltre ci sarà l'occasione di poter prendere informazioni attraverso due punti informativi in presenza, ma anche online, iscrivendosi ad incontri che sono già stati fissati per domani, semplicemente inviando una mail. E tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina dedicata all'Open Day sul sito del Conservatorio www.conservatoriorossini.it E continuiamo ancora a parlare di musica, continuiamo a parlare ancora di giovani. L'Orchestra Sinfonica Rossini ha presentato questa mattina l'ottava edizione di Giovani in Crescendo, un concorso che in questa edizione 2021, fortemente condizionata dagli strascichi della pandemia, ha comunque registrato una sorprendente partecipazione di candidati. All'inizio avevamo dei dubbi, perché non sapevamo se avremmo potuto realizzarla. Anche purtroppo nel 2020 è dovuta saltare, nel 2021 ci abbiamo provato. All'inizio eravamo un po' scettici, perché non pensavamo ci fossero tante adesioni, invece alla fine è stata una cosa incredibile, perché siamo stati oberati di lavoro, felicemente oberati di lavoro, perché sono arrivate addirittura 372 domande, quindi video, che abbiamo dovuto selezionare. Da 16 paesi di tutto il mondo è stato un successo per noi inaspettato. E quindi in questo caso Pesaro non poteva andare all'estero con l'orchestra, sono saltate tournée, festival, tante cose. Fortunatamente l'estero da 16 paesi sono venuti a Pesaro virtualmente. E quindi siamo stati veramente soddisfatti, abbiamo lavorato tanto ed è stata un'esperienza nuova anche per noi, perché selezionare in streaming, cioè attraverso video, i candidati, è stata un'esperienza nuova per noi. Devo dire che il livello dei candidati è sempre altissimo. Di solito sono gli stranieri più bravi, sono più preparati, soprattutto dai paesi orientali, dalla Cina. Quest'anno abbiamo dei candidati che credo raggiungeranno il podio, forse vinceranno nelle diverse categorie, e sono italiani, un livello veramente assoluto, italiano ma mondiale. Quindi saremo lieti insomma di proporgli, presentarli e farli conoscere anche al pubblico italiano, questi candidati. La fascia d'età va dai 6 ai 25 anni. La tipologia del partecipante è a 360 gradi, perché possono partecipare sia con le proprie scuole d'appartenenza, quindi le scuole pubbliche o paritari, private e quant'altro, oppure come anche privati cittadini. Quindi qualcuno che si riconosce con un talento particolare vuole partecipare a prescindere dall'appartenenza o meno di una scuola di musica privata o di una scuola pubblica, come può essere una scuola primaria o una scuola superiore. 29 maggio, appuntamento conclusivo? Sì, il 29 maggio alle 11 presso la Sala degli Specchi al Museo Nazionale Rossini ci sarà la premiazione in diretta, in diretta streaming, dove verranno decretati i vincitori di questa ottava edizione. Proseguono i lavori al vecchio Palasport di Viale dei Partigiani che diventerà l'Auditorium Scavolini. Si sta infatti completando l'installazione del tetto nel rispetto del cronoprogramma che prevede di inaugurare la nuova struttura ad agosto, in occasione del concerto di chiusura del Rossini Opera Festival. Ora Pesaro ha un'oasi delle api. È stata inaugurata ieri sera al Centro Ricerche Floristiche Marche Brilli Cattarini di Via Barsanti e si tratta di un apiario didattico, con due arnie acquistate dal Soroptimist e collocate nell'orto botanico, che consentiranno a studenti e visitatori del centro di osservare la vita e l'operato delle api e l'attività dell'apicoltore durante le fasi di cura e raccolta del miele, approfondendo le caratteristiche nutrizionali. Da X-Factor alla mostra internazionale del nuovo cinema, NAIP, acronimo di Nessun Artista in particolare, è stato fra le rivelazioni del popolare talent show di Sky e ora sarà fra gli ospiti di punta del 57esimo Festival del Cinema di Pesaro. Il 20 giugno, NAIP sarà infatti sul palco di Piazza del Popolo portando in scena il suo spettacolo sperimentale Concerto Muto. Pesaro, città che legge, ha premiato oggi i mini campioni di lettura dell'Istituto Comprensivo di Villa San Martino. Stamattina si è svolta la consegna di libri dal valore complessivo di 500 euro alle classi vincitrici del progetto ideato nel 2013 dal Comune di Pesaro. A partecipare alla sfida sono stati 173 alunni. La classe prima classificata è stata la seconda B del Manzoni. Ed ora parliamo di Merachi, un progetto di 5 associazioni giovanili della provincia che si sono classificate al primo posto di un bando regionale che ora finanzierà progetti di valorizzazione del territorio di vario genere dall'ambiente agli arredi urbani fino all'educazione civica. Oggi si è tenuta la conferenza presso l'Unione Pian del Bruscolo e quindi ascoltiamo a tal proposito le interviste realizzate da Edoardo Orazzi. Sono dei finanziamenti importanti, circa 50.000 euro e noi abbiamo messo una piccola parte, noi il Comune di Pesaro, coinvolti anche i Comuni di Gabice e Gradara, altri Comuni e soprattutto questi cinque gruppi giovanili che diventano sempre più protagonisti del loro futuro sui temi dell'educazione civica, sui temi dell'ambiente, sui temi della partecipazione democratica, del rispetto delle regole, della Costituzione, della cittadinanza europea, su tanti temi anche della riqualificazione urbana che sono veramente importanti per tutti questi Comuni, per questa vallata, i temi del protagonismo dei parchi, delle piazze, dei luoghi in cui i giovani possono essere loro i protagonisti del futuro di questo territorio. Meracchi è un progetto importante che come Comune di Vallefoglia abbiamo sostenuto insieme a diverse associazioni del nostro territorio e ha avuto un contributo molto importante dalla Regione Marche perché si è attestato nella prima posizione dei circa 40 progetti che sono stati presentati a livello regionale. Meracchi propone un ampio ventaglio di attività ma c'è un filo rosso che le tiene insieme, cioè il fatto di sentirsi comunità, di riscoprire anche una dimensione della socialità che è venuta a mancare in questo anno di restrizioni, di distanziamento sociali e rispetto di protocolli di sicurezza che hanno fortemente limitato la possibilità di incontro. Il nostro ruolo all'interno di questo progetto tratta uno dei percorsi di Meracchi che è ambiente e territorio e noi abbiamo sviluppato in sostanza una strategia di progettualità, associazionismo, condivisione e collettività che praticamente si sviluppa in tre punti fucali che è la parte di mappatura del territorio. Passata la fase di mappatura ci sarà una fase di progettazione e di ricerca su quali sono i temi progettuali da portare avanti. Infine si andrà a fare, dopo questo processo di progettazione con i ragazzi, si andrà ad attivare sul luogo direttamente quello che è stato studiato in termini progettuali e quindi i ragazzi poi pianteranno piante, creeranno questi sistemi di arredi urbani. Per ora siamo però in fase progettuale e quindi ancora da definire questi punti che poi verranno appunto sviscerati nel mese di maggio e in giugno-luglio, agosto un po' meno e settembre le ultime battute verranno appunto realizzate. A inizio telegiornale abbiamo parlato di ripartenza della cultura nel nostro territorio ma c'è da segnalare anche una fase di ripartenza dello sport nel nostro territorio, sport che ha anche una valenza nazionale. Corsa, nuoto e ciclismo infatti saranno concentrati nella Adriatic Series di Triathlon e nei campionati italiani di Duathlon che domani e domenica si concentreranno fra Baia Flaminia e i tornanti del San Bartolo. Spiaggia di Baia Flaminia, Lido Pavarotti, riparte da qui lo sport pesarese, riparte da qui il primo evento di richiamo nazionale dopo le tante restrizioni da pandemia. Qui su questa spiaggia sarà il quartiere generale delle Adriatic Series, una a due giorni di sabato 22 maggio e domenica 23 maggio all'insegna del Triathlon e delle Duathlon, competizioni nazionali con 1300 atleti provenienti da tutta Italia che si cimenteranno in questo sport molto spettacolare combinato tra corsa, nuoto e ciclismo. Manifestazione Adriatic Series organizzata dalla Flipper Triathlon di Ascoli Piceno. Siamo alla vigilia di un weekend sicuramente molto ricco di livello agonistico, di spettacolo e soprattutto di sport per forse riassaporare quella sensazione un po' di essere tornati a una pseudonormalità. Siamo sempre vincolati da regole molto rigide di un protocollo anti-covid che noi rispetteremo il più possibile, anche grazie alla collaborazione degli atleti che con il loro comportamento poi dovranno dare il giusto risultato a quello che si chiede. Siamo qui a Pesaro perché crediamo in questa location, è una location ottimale dal punto di vista degli spazi, dal punto di vista del paesaggio, delle strutture ricettive. L'amministrazione comunale ha risposto in pieno con entusiasmo già da qualche anno a questo nostro progetto, ci sta appoggiando, noi siamo felicissimi di poter portare la nostra energia per l'ennesima volta a Pesaro e per la prima volta finalmente dopo quattro tentativi andati a vuoto, non certo per colpa nostra ma per le vicende che tutti sanno della situazione sanitaria nazionale. Quindi questo evento importante, un campionato italiano, speriamo sia il primo di una lunga serie di eventi importanti che noi vogliamo fortemente qui a Pesaro, spalleggiati dall'amministrazione come dicevo prima che ci supporta in tutto e noi siamo molto felici di lavorare con loro. Sono due competizioni insieme dai grandi numeri perché si parla di quasi 1400 atleti, ospitiamo sabato una competizione di triathlon, appunto gli atleti arrivano da tutto il territorio nazionale e domenica i campionati italiani di duathlon. È il momento di ripartire, siamo contenti di ripartire all'insegna dello sport, il comparto turistico è stato un settore fortemente penalizzato, fortemente colpito, insomma già questo è una boccata d'ossigeno, insomma il nostro augurio è che si possa tenere questo trend da qui insomma ai prossimi anni. E in chiusura parliamo ancora di sport perché vi dobbiamo ricordare che domani torna in campo l'Alma Juventus Fano per la delicatissima gara d'andata dei play-out con Limolese, appuntamento quindi allo stadio Mancini alle 17.30. Campionato invece già finito da 20 giorni per la Vispesaro che sta programmando il futuro ed oggi ha comunicato la risoluzione consensuale con il dirigente Alessio Peroni. Rescissione in arrivo anche per Jasmine Repeja dalla mansione di allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il coach croato lascerà infatti la VL per approdare alla Fortitudo Bologna. Vediamo. Ai titoli di coda, dopo un solo anno, l'avventura di Jasmine Repeja sulla panchina della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il coach croato è pronto a firmare per la Fortitudo Bologna dove lo attende un contratto quadriennale. La notizia ha preso corpo nella serata di ieri quando l'Aquila bolognese ha ufficialmente comunicato la rescissione dal contratto dell'allenatore Luca Dalmonte liberando così spazio al ritorno di Repeja che già si era seduto sulla panchina bolognese per quattro stagioni dal 2002 al 2006 vincendo uno scudetto e una supercoppa. Per i tifosi pesaresi l'addio di Repeja mescola sentimenti di amarezza e riconoscenza. Si perde un allenatore determinante nella stagione del rilancio del basket bianco-rosso e lo si ringrazia per aver fatto riaccomodare Pesaro nel salotto buono qual è stato una finale di Coppa Italia. Ora la VL si prende una settimana di riflessione e poi deciderà il successore di Repeja che resterà anche alla storia per essere stato l'allenatore in tempo di pandemia. Quello che i tifosi hanno potuto applaudire solo dagli schermi tv e mai dagli spalti della Vitri Frigo Arena. Ario Costa dovrà ricostruire l'intero staff tecnico visto che anche il vice di Repeja Paolo Calbini ha manifestato il suo desiderio di rientrare le giovanili. Il commissario tecnico azzurro Romeo Sacchetti corteggiato anche da Varese è uno dei nomi attualmente papabili per il dopo Repeja. E noi chiaramente vi daremo costantemente notizie riguardanti le squadre del nostro territorio. Intanto andiamo a vedere come si prospetta la serata di questa sera su Rossini TV alle 21.15 parleremo di un progetto molto molto interessante lanciato dall'Istituto Beramante Genga il laboratorio di impresa. E poi ancora alle 21.30 invece una nuova puntata di sviluppo Marche per l'economia del territorio e anche della nostra regione. E poi vi ricordiamo anche la rassegna stampa di domani domani alle 7.20 in diretta la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini con Antonio Astuti saremo anche in diretta Facebook e anche ci potete seguire dalla nostra applicazione. E poi sempre domani appunto come annunciato già durante l'edizione del telegiornale alle 19.30 in diretta manderemo in onda questo concerto form e classe di direzione d'orchestra dell'open day del Conservatorio Rossini tutto in diretta dall'auditorium Pedrotti quindi non perdetevi di questo appuntamento meraviglioso con i bravissimi allievi del Conservatorio Rossini E poi come sempre vi ricordiamo scaricate l'applicazione Rossini TV è gratuita vi permette di vederci in qualsiasi istante in qualsiasi luogo vi troviate di vedere la nostra programmazione le nostre notizie i nostri programmi e soprattutto di mettervi in contatto con noi e vi ricordiamo anche di continuare ad inviare le foto per il programma Qua la Zampa le foto dei vostri amici animali al 370-366-7210 e vi ricordiamo chiaramente che la seconda puntata di Qua la Zampa andrà in onda mercoledì prossimo alle ore 21.15 Grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata e mi raccomando la rassegna stampa di domani alle 7.20